Mister, lei non ci ha abituato a scelte diciamo semplici, nel senso che ogni volta con lei c'è una sorpresa, gli addetti ai lavori sono spiazzati, soprattutto per quanto riguarda le convocazioni. Oggi ancora una volta quella di Moscero. No beh, non spiazzano sinceramente nessuno, è un dispiacere enorme per me lasciare fuori Moscero, ma se non lasciavo fuori Moscero dovevo lasciare fuori Calderini, se non Calderini Cori, se non Cori Cesca, se non Cesca De Angelis. Questa è la verità, io per adesso ancora, normale che accetto queste situazioni di battute varie, ma purtroppo o per fortuna non avendo l'Aureola, credo che di miracoli non se ne fanno, ci sono quattro attaccanti, due giocano, due vanno in panchina, più di quello che secondo me non può fare nessuno, non io. Una scontro salvezza questo con l'Ischia, una gara da vincere a tutti i costi per evitare che l'Ischia proprio ci scavalchi in classifica. Mi tocco, no la verità è che ci mancherebbe, tutte le partite sono importanti, quando ci sono i sconti diretti, ho detto prima che ne abbiamo adesso alcuni di seguito, forse valgono doppio. Come ha detto Maurizio, allenatore dell'Ischia, sicuramente in sala non possono essere decisivi adesso perché manca veramente una marea di partite, ma veramente per il proseguire il campionato sono fondamentali questo tipo di partite, è normale. Tutte e due le squadre vorranno vincere, però la cosa che conta per me è avere la squadra sempre a migliorare in modo che possiamo poi permetterci di prendere punti da tutte le parti. Non ci sarà Schetter, però Ingrid Orli lo sostituirà, che avversario è l'Ischia? Beh, l'Ischia è normale che hanno avuto molti problemi, come l'ha avuti Elia, sicuramente ancora anche il Cosenza, però io ho visto le ultime due partite dove paradossalmente l'ultima di Porta con la Lupa Roma fuori casa meritavano di stravincere, e l'ultima invece con la Regina, diciamo che il primo tempo la Regina ha fatto una buonassima partita, però in dieci minuti del secondo tempo hanno chiuso a 2-0, dunque sicuramente è una squadra come tutte quelle come noi che deve lottare per questi benedetti play-out o maledetti e comunque ha davanti sicuramente dei giocatori molto molto importanti.